Niente, non vogliono farci incontrare. Ah no? E chi è che osa frapporsi tra noi due? Eh, pare che il mondo stia andando a fuoco. Dice che Domo sta chiusi dentro, pare che c'è un attacco chimica runga. Ma che è bevuto e ha cominciato a fuga forte? Ma l'ha detto la radio, dico davvero, Domo sta chiusi dentro. Vivremo per sempre felici e contenti, io e te, chiusi qua a detto. Ma questo è scoppiando la terza guerra mondiale, domani la notizia sarà soltanto questa. Figurati che gliene frega la gente dell'uscita del film. Sì, sì, immaginavo che domani non è più possibile. Senta, possiamo prendere un appuntamento magari la settimana prossima? Ma le chiedo un giorno e un orario provvisori, Cristo santo! Cioè tu dopo mesi che sei rinchiuso in quella stanzetta del cazzo senza rivolgermi la parola mi viene a dire che ci vuoi riprovare? Nessuno può uscire stasera. Pensa prima, quando eravamo una famiglia, quando c'era Paolo. Ti ho sentito mio. Ed è strano perché praticamente non ti conosco. Sono grande e diventerò sempre più grande, capito? Fra uno spettacolo e l'altro, fra un film e l'altro, la notte non dormirò perché studierò. Non trovi anche tu che sia inumano non poter goder della bellezza della natura ogni singolo giorno della nostra vita? Grazie per la visione!